fusilli in crema di cavolfiori rosolate le cimette di cavolfiori in un pochino di olio extravergine d'oliva sfumiamo con dell'ottimo vin bianco prendiamo una manciatina di capperi sotto sale e gli diamo una bella sciacquata ma non diciamolo alla piccola regia che lei dice che non le piacciono i capperi ormai le nostre cimette sono a punto giusto di cottura aggiungiamo i capperi di salati lasciamo insaporire oltre che in cottura aver aggiunto un po di acqua di cottura della pasta salata e tre capperini adesso che devo frullare che è tutto bello cotto aggiunto un bel doppio giro di giro giro d'olio d'extravergine d'oliva a fra poco bene la crema svuotata nella pasta mescoliamo la pasta non ne ho messa troppa perché cavolfiore molto nutriente aggiungete un pizzico di parmigiano e siamo a tavola ciao buona papà svolverata di parmigiano grattugiato e tutti a tavola io per dare un po quel senso di crunch come si usa dire alla fine ho aggiunto anche una manciata di semi di chia buon pranzo a tutti